Con l'occasione di una visita cardiologica approfondita dava sfogo alle sue pulsioni sessuali con legnare pazienti. I carabinieri della compagnia di Urbino hanno arrestato un noto cardiologo di 68 anni che operava da diverso tempo nell'Urbinate per violenza sessuale aggravata accertata su nove donne di cui due minorenni, una delle quali nemmeno dodicenne al momento dell'abuso. Aggravata dal fatto che le vittime erano in una condizione di sudditanza psicologica dovuta alla veste di professionista e specialista medico di nota fama sulla piazza dell'uomo che esercitava così sulle proprie vittime una condizione prevaricante. I militari lo sono andati a prendere nel tardo pomeriggio di ieri in una delle due strutture private, una delle quali convenzionata col sistema sanitario nazionale che va detto del tutto ignare di ciò che stava accadendo nelle stanze dove il medico operava su mandato della magistratura di Urbino. L'inchiesta condotta dal PM Irene Lillio è scattata dopo una denuncia fatta da una mamma di una ragazza sedicenne che aveva assistito alla visita del cardiologo alla figlia per un'idoneità sportiva. La madre si raccorta che il medico aveva molestato la ragazza con la scusa di indagini approfondite. A quel punto è scattata la denuncia ai carabinieri che hanno installato microtelecamere nei due ambulatori utilizzati dal medico per ricevere i pazienti. Il soggetto attualmente si trova agli arresti domiciliari ed è accusato di violenza assuola aggravata poiché abusando della propria posizione di medico ha anche violato alcuni doveri connessi alla funzione pubblica. Sono in corso ancora le indagini per poter scoprire se vi sono ulteriori vittime. Siamo dell'idea che altre donne potrebbero essere state coinvolte in questo grave reato. La scusa di sentire l'arteria femorale non era la sola messa in atto dal cardiologo per palpare e molestare le sue vittime. Le indagini coordinate dal capitano Poglisi della compagnia di Urbino ed eseguite dai militari della stazione di Sant'Angelo Invado e Pian di Meleto hanno mostrato come il professionista con la scusa di misurare la pressione arteriosa al braccio con le pazienti stese sul lettino approfittasse per avvicinarsi con i propri genitali alle mani aperte delle donne fino al punto di toccarle. Le indagini sono ancora in corso e questa appunto è un'occasione per poter invitare eventuali donne che avessero subito analoghe violenze sessuali a denunciare il fatto garantendo la riservatezza di ognuna di esse. Un'indagine molto complessa e delicata per gli aspetti e le implicazioni di carattere emotivo e psicologico delle vittime che, presumono gli inquirenti, abbia ancora molto da portare alla luce. Per questo e per la possibilità che il cardiologo potesse reiterare il reato, il magistrato ha disposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dove tuttora l'uomo si trova in attesa di essere sentito dal magistrato titolare dell'inchiesta.